La mortalità da Covid è concentrata tra gli 83, gli 84 e gli 85 anni e fare il booster può salvare la vita. Parla così il Ministro della Salute Roberto Speranza partecipando al convegno su pandemie PNRR che si è svolto stamane a Roma. Continuo per esempio a fare appello alle persone più fragili del nostro paese di avere un secondo booster. Come è noto le nostre autorità scientifiche hanno autorizzato e raccomandato un secondo richiamo per le persone che hanno più di 80 anni, per le persone che vivono in un RSA e per le persone tra i 60 e i 79 anni che hanno particolari condizioni di fragilità. Speranza spiega di essere da poco tornato dagli Stati Uniti dove si è confrontato anche con Anthony Fauci, consigliere del presidente americano Biden e rimarca che quello italiano è uno degli standard più alti di vaccinazione a livello globale. Solo un grande paese somministra 137 milioni di dosi in qualcosa come 15-16 mesi. Stamane al convegno è intervenuto anche il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro che ha affermato non possiamo gestire un'emergenza senza considerare anche il livello comunicativo. Noi abbiamo messo in campo addetto nuove professionalità e agito contro le fake news. Intanto negli Stati Uniti la Food and Drug Administration ha messo a punto il calendario di incontri per la revisione dei potenziali vaccini anti-covid per i bambini al di sotto dei 5 anni di età e per discutere le immunizzazioni future per gli adulti. Al momento solo la metà dei cittadini italiani può trovare nelle farmacie le pillole anti-covid, i farmaci antivirali che devono essere somministrati ai pazienti più fragili entro 5 giorni dalla comparsa dei sintomi. Nonostante le disposizioni dell'Agenzia del Farmaco e la firma, il 21 aprile scorso, del relativo protocollo d'intesa, la pillola anti-covid può essere acquistata in farmacia solo in 12 regioni italiane. Nelle altre, per motivi diversi, il farmaco non è ancora disponibile. In Lombardia, ad esempio, si dovrà attendere il 16 maggio. Dal 16 maggio tutte le farmacie lombarde avranno a disposizione il nuovo farmaco antivirale. In tante regioni questo farmaco è già distribuito. Una grande battaglia che il Ministero della Sanità e tutte le regioni italiane hanno voluto combattere, stanno combattendo. E noi farmacisti, le farmacie in prima linea, per essere il primo presidio del sistema sanitario nazionale, dove tutte le persone possono trovare aiuto ed assistenza. La distribuzione di questi farmaci vicino a casa sarà un altro importante passo avanti nella lotta contro il covid. Federpharma lancia l'allarme e moltiplica gli sforzi, quindi. Ma in alcune regioni devono ancora essere risolti i problemi organizzativi, come la traduzione in italiano dei bugiardini, che hanno finora impedito la vendita in tutte le 19.000 farmacie italiane con prescrizione medica delle pillole anti-covid. Un trattamento a domicilio che consente ai pazienti più fragili di ridurre il rischio di ammalarsi gravemente.